il culibro non parla da solo 52 gare nazionali giusto Marek? 25 gare o 26 Champions League 6 titoli di cui 4 campionati e 2 coppe giusto un giro per l'Europa il giocatore possiamo dire mitteleuropeo per usare una parola aulica come? aulica mitteleuropeo è un calciatore che ha giocato in diversi paesi d'Europa non ha trovato un'opportunità che era di suo gradimento all'inizio stagione aspettava l'opportunità e il tempo è passato abbiamo grazie anche all'intervento del suo agente Martin Petras abbiamo avuto questa opportunità e abbiamo chiuso rapidamente il contratto contratto fino a fine stagione io sono convinto assolutamente che ci dà una grossa mano perché anche se è un momento molto delicato la sua esperienza e la sua qualità ci aiuterà sicuramente a venire fuori da questa situazione grazie a tutti grazie a tutti